Venerdì mattina Papa Francesco ha incontrato il Presidente della Repubblica di Armenia, Serz Sargassian. Durante i cordiali collochi è stata espressa soddisfazione per lo sviluppo e rafforzamento dei rapporti bilaterali, elevando il ruolo particolare del cristianesimo nella storia e nella vita della società armena. Per quanto riguarda la situazione politica regionale, si è auspicato il superamento delle complesse questioni risolte attraverso il dialogo fra tutte le parti interessate. Inoltre si è accennato al tema dei conflitti in Medio Oriente, confidando nello sforzo comune delle nazioni e delle comunità religiose interessate per giungere alla pacifica convivenza dei popoli dell'intera regione. Speciale attenzione è stata dedicata alla situazione delle comunità cristiane e di altre minoranze religiose nell'area e alla crisi umanitaria riguardante i profughi provenienti dalle zone colpite. Grazie a tutti.